Da oggi è stato aperto al pubblico il nuovo locale del buon Carlo Cracco, ubicato in galleria Vittorio Emanuele II. Ci troviamo ovviamente in Lombardia, nella fattispecie concreta, a Milano. È stato rappresentato però in anteprima qualche giorno fa di tempo e il buon Cracco avrebbe detto è un luogo diverso in galleria dove poter scoprire e immaginarsi quello che c'era una volta. È un racconto, questo, esattamente come un piatto. Insomma, dunque, il buon Cracco, personaggio che possiamo considerare come il dispicco del mondo della cucina, del mondo degli chef, che ha fatto anche, mi ricordo, giudice, se non erro, proprio di Masterchef, dunque avrebbe deciso di aprire questo nuovo locale. Un nuovo esperimento, un nuovo, chiamiamolo, locale aperto, una nuova garanzia, una nuova indole, un nuovo percorso culinario da percorrere insieme. Vi ringrazio per l'ascolto, esimi utenti di YouTube, complente Carlo Cracco, il video non vuole assolutamente l'apprise di Carlo Cracco, ma su informare eventuali persone rispetto alla sua privacy. Grazie e un saluto nel prossimo video da Naruto Italiano.